Salve a tutti, in e out del Gran Premio del Bahrain, detto della Red Bull stellare, sicuramente in un Fernando Alonso, 42 anni a luglio, formato Mondiali 2005-2006 e ora all'Aston Martin già annunciano un programma di aggiornamenti definito ambizioso. Pensate tra l'altro che è stato riscontrato che nel weekend del 99esimo podio di Fernando le quotazioni in borsa dell'Aston Martin sono schizzate in alto fino al 25% e solo l'inizio promette Lauren Stroll. Out invece la Ferrari e soprattutto Leclerc fermato al 41esimo giro dal motore ammutolito. Pare un problema elettrico ma comunque duro da mandar giù. L'affidabilità sembrava ok dopo i test precampionato sulla stessa pista con 417 giri effettuati pari ad oltre 7 Gran Premi disputati senza problemi. Leclerc quest'anno sembra senza pazienza, così non si può ha sbottato, siamo lenti in curva, senza passo, loro devono aver trovato qualcosa. Chiaro il messaggio ai tecnici del cavallino, tirate fuori qualche idea, ma ai piani alti di Maranello le attenzioni da ora vanno anche al mondiale Endurance al via a Sebring. Grazie per la visione, lasciami un like se il video ti è piaciuto e iscriviti al canale. Ciao!